I microfoni di Verde Matese, il Presidente dell'Agri Sviluppo, Camera di Commercio di Caserta, Generoso Marandino, che ci darà le sue impressioni per questo evento così importante dell'Alto Casertano, appunto l'evento di Ruralia 2011. Ovviamente è un'impressione più che bella, più che buona perché è un momento di sintesi tra il mondo venatorio, il mondo agricolo, il mondo ambientalista e ringrazio appunto anche il proprietario della struttura di Vernelle che hanno messo a disposizione questa location eccezionale, stupenda per appunto ospitare questa manifestazione. L'ATC ha organizzato questa bellissima manifestazione con Agri Sviluppo, il Presidente dell'Agri Sviluppo, l'azienda speciale della Camera di Commercio ha voluto partecipare a questo evento proprio con la degustazione di prodotti tipici, dei prodotti agroalimentari. La valorizzazione è soprattutto, come visto, dell'olio, del formaggio. Ottimi prodotti della provincia di Caserta, anche dell'Alto Casertano, formaggio fresco, formaggio stagionato, olio extravergine d'oliva della provincia di Caserta, abbiamo vigli della provincia di Caserta, abbiamo poi l'olio mellino, un cocktail a base di aspirino, brutto, mela, nurca, mozzarella, servito con mozzarella e capicollo di maiale nero. Comunque i prodotti è una sintesi tra le eccellenze del territorio, le eccellenze dell'agroalimentare e il mondo, lo sport, lo amore. Ai microfoni di... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.